a tutti voi bentrovati su le fonti tv come avete visto dalla nostra sigla parte una nuova puntata di le fonti agora fiscale allora parliamo di impresa di imprenditoria di cosa significa oggi fare impresa ma soprattutto cosa significa proteggere anche quello che costruiamo in tanti anni tutela del patrimonio dell'imprenditore questo è un po il titolo che abbiamo voluto dare alla puntata cosa si intende per patrimonio dell'imprenditore quello che stavamo dicendo quello che costruiamo nel corso del tempo maria buonsanto con me per questa puntata ben trovata grazie manuela ben trovata a te ben trovati ai nostri telespettatori ben trovata naturalmente al nostro ospite do il benvenuto a francesco cardone CEO di impre focus fondatore di sistema impresa vincente grazie grazie per l'invito per me un canale piacere grazie è un piacere è un piacere per noi ritrovarla non è la prima volta che abbiamo modo di parlare con lei dell'impresa intesa appunto come impresa vincente dell'imprenditore eroe che traghetta la sua impresa verso il successo verso la redditività una volta raggiunta questa redditività è consolidato il patrimonio bisogna come dicevamo anche proteggerlo quindi chiedo a lei quali sono le best practice cosa si può fare per proteggersi e di soprattutto un discorso di mindset di cambiamento di conoscenza quindi quando noi parliamo della tutela del patrimonio quello che diventa fondamentale che deve esserci una cultura diversa la cultura diversa deve essere quello che l'imprenditore deve tutelare la propria famiglia e quindi migliorare la qualità di vita dell'imprenditore rendere le famiglie serene e poi come lei ha detto in italia che cosa significa che non mi piace il termine trasta io lo dico in maniera chiara io penso che le holding delle famiglie degli imprenditori italiani devono essere in italia poi l'altro elemento fondamentale qual è che costituendo una holding della famiglia degli imprenditori e portando investimenti mobiliari o immobiliari noi possiamo generare delle rendite automatiche perché noi dobbiamo anche pensare che ci sarà un futuro dell'imprenditore che lui non sarà più imprenditore farà un'attività non più un'attività e quindi pensare al futuro quindi accantonare mettere da parte e fare in modo faccio un esempio più stupido che mi può venire in questo momento compro un immobile e lo metto a reddito questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare distinguendo come dicevo prima la vita privata dell'imprenditore dalla vita imprenditoriale ecco dottor cardone lei l'ha appena accennato c'è un momento oggettivamente in cui poi l'imprenditore cessa di essere tale giustamente vuole anche magari godersi frutti del proprio lavoro riposarsi e parliamo quindi di un passaggio generazionale che auspicabile avvenga qual è il ruolo del consulente per favorire questo passaggio cosa può fare innanzitutto non è un ruolo tecnico inizialmente è un ruolo psicologico spiego anche perché se io ho un'azienda e ho due figli non è detto che io devo prendere l'azienda 50 per cento a uno 50 per cento all'altro figlio questo è l'errore più macroscopico che commettono gli imprenditori perché questo perché io devo vedere se all'interno dei miei figlioli io ho colui che può vestire il mantello del leader perché per fare l'imprenditore bisogna essere un leader ho dei figlioli che domani vogliono continuare la mia attività vi faccio un esempio perché a volte mi piace parlare della mia attività io ho due figlie di 28 e 24 anni una fa marketing e un'altra farà psicologa qui a Milano nessuna delle due vuole fare la commercialista quindi non posso pensare domani di prendere la mia azienda e di darla 50 e 50 ai figli perciò è importante la leva psicologica capire cosa vogliono fare i nostri figli se i nostri figli vogliono uno o più di uno vuole continuare la nostra azienda loro li facciamo fare un percorso di crescita per diventare imprenditori ma se i nostri figli non vogliono fare l'attività dei genitori arrivato a quel punto dobbiamo pensare ad una strategia di un passaggio generazionale diverso da quello che pensiamo un exit aziendale quindi un discorso nel tempo o di avere un manager che gestisca l'azienda o proprio una vera e propria vendita dell'azienda a terzi quindi è un discorso inizialmente più di natura psicologica di parlare io penso che il commercialista divergente quali io sono io penso di avere una grande capacità per gli imprenditori io ho una grande capacità di ascoltarli vede anche nel libro io parlo molto di emozioni all'interno del libro ci sono delle canzoni no? perché? perché io penso che la canzone è un'emozione ma chiunque la canti italiana straniera io penso che sia fondamentale lavorare sulle emozioni e quindi il mio modo di lavorare il mio modo di ascoltare il mio modo di ascoltare io per esempio tante volte quando vado in un'azienda e incomincio a fare un percorso di crescita all'interno dell'azienda chiedo di incontrare il partner chiedo di incontrare i figli dell'imprenditore perché anche per capire cosa pensa il partner dell'imprenditore e cosa pensano i figli perché tante volte l'imprenditore non parla della sua azienda all'interno della sua famiglia e quindi a volte dobbiamo dialogare noi professionisti con l'azienda dopo c'è una parte tecnica la parte tecnica che prevede utilizzare quelli che sono gli strumenti previsti dalla norma ripeto io utilizzo delle holding italiane con delle operazioni straordinarie di scissione o di conferimento di immobile infatti le stavo proprio chiedendo la parte tecnica che cosa consisteva e peraltro il tema proprio della volontà delle future generazioni è tutto perché si rischia di fare dei danni quante volte si sente è passato nelle mani dei figli e il patrimonio torniamo su questa parola che magari approfondiamo ulteriormente il patrimonio quello che si è costruito per tanti anni viene rovinato quindi se volessimo cercare di creare uno schema con al centro la parola patrimonio da che altri termini sarebbe composto? allora innanzitutto quando io parlo di patrimonio io ho un'idea che lei stava dicendo prima ed è sudore, lacrime e sangue ecco vabbè certo della famiglia dell'imprenditore partendo dai genitori, partendo dai nonni perché tante volte il patrimonio immobiliare deriva da generazioni differenti quindi quando noi parliamo di patrimonio dobbiamo decidere cosa vogliamo andare a fare per esempio se io il patrimonio l'ho nella sfera personale posso fare un conferimento del mio patrimonio all'interno di una holding nel momento in cui questo patrimonio è invece all'interno di un'azienda io posso con un'operazione straordinaria che si chiama scissione prendere una parte di questo patrimonio e portarlo nella holding poi deve sapere che in Italia il concetto di proprietà è un concetto diviso in tre parti invece pensiamo che sia uno a volte, che è l'intera proprietà, la nuda proprietà e l'usufrutto questo poi lo conosciamo un po' nel discorso immobiliare a volte i nonni o i genitori lasciano gli immobili detenendosi l'usufrutto tanti non sanno che questo si può fare con le quote o con le azioni di una società quindi io genitore posso decidere di avere l'usufrutto delle quote della mia società e dare ai miei figlioli la nuda proprietà di quelle quote ecco perché io dico un discorso soprattutto di ascoltare l'imprenditore e la famiglia perché poi la tecnica o le tecniche ci sono quello che bisogna fare è ascoltare se uno dei miei figli non vuole fare l'imprenditore poi utilizzerò un sistema compensativo verso quel figlio che non prenderà l'azienda ma gli darò un po' di più dell'altra parte del mio patrimonio anche questo scusami è una strategia visto che parliamo di strategie e del modo di fare impresa chiedo scusa vi ricordo che le fonti a ottobre del 2021 mi ha premiato per la consulenza strategica con le fonti di aula assolutamente è proprio quello che mi ha anticipato qui volevo accennare la consulenza strategica perché lei giustamente diceva l'impresa è fatta di sudore, lacrime e sangue molto spesso non soltanto dell'imprenditore ma anche dei suoi genitori quando non dei nonni quindi un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione è proprio lì che secondo me si annida una delle maggiori difficoltà cioè l'imprenditore lo vive in maniera molto personale cioè si stacca dal concetto di patrimonio per abbracciare quella appunto in cui la vita e l'impresa coincidono e forse lì è anche quella difficoltà nell'accettare che poi non è detto che i figli vogliano proseguire una storia di famiglia fatta di imprenditorialità quindi la consulenza strategica in questi momenti di difficoltà dell'imprenditore in cosa consiste? come si esplica? innanzitutto nell'ascolto perché la prima fase è quella che manca oggi nell'ambito delle professioni è ascoltare l'imprenditore di solito il professionista è uno che parla invece io penso che il professionista dei giorni d'oggi è uno che ascolta l'imprenditore ascolta quello che l'imprenditore ha dentro l'anima ecco perché io parlo tante volte di emozione quindi bisogna ascoltare l'imprenditore bisogna ascoltare la famiglia dell'imprenditore vede tante volte i figli degli imprenditori hanno un'avversità verso l'azienda perché quando l'imprenditore vive per l'azienda toglie tanto al suo essere padre al suo essere partner allora il concetto qual è? che a volte i figli hanno proprio un'avversità verso l'azienda perché è quello che ha tolto qualcosa nella loro vita la lontananza del genitore allora noi dobbiamo far capire al genitore che c'è il tempo dell'azienda c'è il tempo per se stesso c'è il tempo per la famiglia c'è il tempo per andare in vacanza cioè questi sono concetti che oggi gli imprenditori devono capire quindi il mio modo è quello di ascoltare l'imprenditore e di essere un partner dell'imprenditore sedermi accanto all'imprenditore e ascoltare la famiglia dell'imprenditore perché questa è la regola secondo me dell'imprenditore dei giorni d'oggi e quindi il professionista accanto ad un imprenditore vincente deve trasmettere queste cose che fanno poco parte della storia dei professionisti italiani ripeto una storia fatta di tante parole io penso che sia una storia fatta di tanto ascolto c'entra con questo discorso quello che Maria ti ricorderai anche tu hai già avuto modo di dirci in altra occasione non innamorarti troppo della tua azienda è un po' la distinzione che bisogna fare si può ricondurre tutto lì? lo scopo dell'azienda è quello di portare ricchezza alla famiglia dell'imprenditore invece a volte l'imprenditore si innamora così tanto dell'azienda come dicevamo in una puntata precedente diventa cieco come l'innamoramento che può avere che non ci fa vedere le cose che non vanno esattamente e non guarda le cose che non vanno quando uno si innamora vede tutto bello non è che vede i difetti, vede solo i pregi dell'altro invece l'imprenditore deve essere una persona che deve avere un'attenzione e quindi non deve innamorarsi troppo ma deve capire che lo strumento impresa è quello strumento che deve portare vantaggi e ricchezza alla famiglia quindi in termini di patrimonio e questo patrimonio deve essere tutelato del resto Maria la protezione presuppone che si abbiano non due occhi ma molti di più e quindi sicuramente non si può essere ciechi anzi bisogna essere sempre avanti tenere gli occhi esatto ben aperti anzi sulla propria attività e mi raccomando questo mi sembra un consiglio prezioso ricordarsi che è uno strumento non dimentichiamoci questo non è la vita è uno strumento per vivere meglio e per accrescere la propria ricchezza che se non si usa bene non ci fa vivere meglio abbiamo messo anche un po' di saggezza visto che peraltro e così tutto si collega nel libro Tu sei un eroe che peraltro avrà un secondo volume perché questo è il volume 1 ci sono anche delle citazioni dei ricordi sotto forma anche di canzoni lo ha detto anche lei prima quindi delle emozioni perciò insomma la saggezza centra e come non è che se si parla di economia e imprenditoria non c'è quella parte bisogna mettere quella parte emozionale che è una parte di straordinaria importanza assolutamente consigli ma non solo perché vorrei ricordare abbiamo avuto modo di dirlo in una precedente puntata tantissimi consigli preziosi all'interno del libro ma anche uno strumento molto pratico un buono che potrete utilizzare proprio per avere una consulenza esattamente da utilizzare per far crescere la vostra impresa una consulenza gratuita con un business coaching in pre-focus perché io penso che l'imprenditore deve avere valore dando valore si arriva al successo è esattamente il contrario di come si pensa e quindi noi abbiamo messo a disposizione in questo libro una consulenza con un business coaching in pre-focus perché vogliamo dare valore agli imprenditori italiani dopo due anni di pandemia è un inizio 2022 molto particolare e allora leggere fa bene, formarsi fa bene insomma più di così penso che non potevamo fare e si farà ancora molto di più insomma con la lungimiranza cosa che abbiamo detto più volte Maria Bonsanto grazie mille grazie a te Emanuele grazie naturalmente anche al nostro ospite Francesco Cardone grazie per se è stato con noi grazie, grazie per l'invito è un grande piacere essere sempre qui con voi è stata una bella chiacchierata speriamo di avervi tenuto compagnia grazie per averci seguiti e naturalmente posso dire una cosa? sì, certo tutti e tre però? sì buona impresa vincente a tutti e allora faccia così saluti lei i nostri telespettatori chiuda lei con questo, prego buona impresa vincente da Francesco Cardone buona impresa buona impresa buona impresa Grazie.